wella ragazzi ciao da nick e bentornati qui su farming simulator 22 nella mappa griffin indiana ragazzi oggi sono in compagnia di miticaccio o la gente ciao o hai detto la gente pensavo mo fa il torero non lo so se di fatti guardate manca il cappello e quasi quasi sempre uno pronto a cavalcare il toro ci assomigli e si pari in torero ola ola toto ola ma vabbè oggi noi dobbiamo cavalcare effettivamente oggi ragazzi cavalcheremo dunque praticamente data la scarsità di mod che al momento stanno uscendo nel mod hub ho detto andiamo a vedere un po nei siti esterni che cosa c'è perché non so più che portare come mod non ne stanno uscendo al momento e allora ho trovato una mod non tanto utilissima non neanche tanto leggera pesa un botto di fatti la utilizzerò poche poi credo che la tolgo però è carina è giusto per vederla cista praticamente ho trovato una mod su sito esterno quindi non è compatibile per console solo pc ho trovato una mod che introduce due carrelli questi due carrelli praticamente si possono agganciare al cavallo e alla vacca quindi puoi trasportare diciamo grano tramite l'utilizzo della vacca o del cavallo certo ma non abbiamo l'asino nel gioco quindi non c'è ovviamente non c'è c'è ma c'è insomma c'è la vacca e il cavallo allora visto che siamo io a medicaccio a medicaccio diamo la vacca io piglio il cavallo e giustamente va bene dai va bene va bene va bene la macchina vacca che un pà ti fa il latte si allora di cavallo però e fai attenzione furia 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 ma già va già ma si chiama marta no mara mara di veniere di venere dunque mara 10 euro costa una macca da 10 euro guarda maracaibo mare forza 9 ma che carina è scema 400 kg buona allora 10 euro dai la compro o la noleggio la pacca io non la vedo ma compra ma che te frego e al negozio ho comprato anche cavallo allora però purtroppo il tizio che ha creato sta mod si è dimenticato di tradurre il carrellino perché praticamente ci stanno due carrelli tutte e due per cavallo ma in teoria uno dovrebbe essere per la vacca non per il cavallo quindi io li compro tutte e due e cerchiamo di capire quale per la vacca quale non è per la vacca perché non si capisce quindi devo andare al negozio compa cadirei ok or dunque si va al negozio visita eccoci qua come funziona ma chi l'odio il cavallo vola perfetto ah no ok tutto a posto ma io non ti vedo ah beh sì perché è fatto apposta perché se guardi c'è l'omino aspetta eh vediamo un po' ma a me è lenta peggio di non so che cosa ok l'ho trovato oppure aspetta però è fighissimo porca miseria no io voglio usare solo l'amore voglio andare in giro così compa però è veloce cavolo altro che scusa compaccio l'arretro che è un po complicata aspetta aspetta mi sono un attimo incastato in mezzo di così qua no vabbè è fatta benissimo ah no ma li piglia tutte e due a prescindere uno ma è l'altro oddio oddio Dov'acqua e lo amico Evi qua Ecco alla amo facciamo così un toro ma che sta a fare a salta Se vabbè Un attimo è maestro senca ma è spettacolare E' spettacolare Compa Fermati 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 Oddio oddio mi sono incastrato pure io aiuto E pure io pure io aspetta Ok mi si è incastrato il coso Ho baggato tutto ho baggato ho baggato tutto Oddio 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 ho baggato mezzo oddio Ok allora bisogna prenderci la mano però però è molto molto è molto la mano perché E vabbè cacchio questo non gira bene oddio Ok no però è figo vai Avante Avante Trocchiare Andiamo andare No però è fatto è fatto bene ragazzo eh Cioè io sarei molto contento se Una mod simile uscisse nel mod hub io non la so fare non me guardate non la so fare però chi l'ha fatta è che ci vuole molto credo impegno ma che ci fa una batteria da macchina qua non ho capito che serve per dare la scossa al cavallo Ah io non ce l'ho Oddio oddio No ma sai cosa C'è sto rimorchio c'è il gancio dietro per agganciare altri rimorchi Ok Cioè tu immagini che io aggancio altri ma a parte che è A parte che è velocissimo eh Vabbè la vacca che corre come il cavallo Ah no difatti non è veloce come il cavallo ho fatto bene a dare No 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 Ho fatto bene La vacca Oh ma se ci metto Oh l'autodrive No vabbè No no non funziona l'autodrive E vabbè ci sta tu immagini il cavallo che galoppa c'è troppo figo Al cavallo gli dici nelle orecchie oh vai in farm subito capo subito Tu immagini no il cavallo che è intelligente Oh ma la cosa è troppo a te Oh compa il mio cavallo che vuoi c'è la batteria qua io ho attaccato i cavi Perché non mi ha preso il toro a posto della mucca Perché il toro vedendoti te se fa compa No 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 mi dissocio del toro Eh Ah però no no eh Oh la visuale in prima persona va che bella Ok la visuale per caldo rimane dal cavallo eh Ah no c'è No no c'è dal cavallo però è bello Io se la metto mi esplode farming non capisco il perché vabbè 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 scusa un momento qui come ti sta andando Va benissimo se primo la C mi esplode Ah sì Beh funziona magnificamente E tienitela sempre con pa perché fidati che è brutto eh Ah comunque a proposito di mod prima che mi dimentico ho ottime notizie riguardo alle mie mod raga Lunedì dovrebbero uscire Tecnicamente potevano uscire pure oggi ma a Giants oggi non fa usci niente di sabato Cioè già da ieri mi dice già da ieri mi dice che la mod del forno è quella del cancello Eh sono pronte per uscire Però non è che dici le fanno uscire di sabato nooo perché a gente di sabato non gioca a farming Quindi ormai domani e domenica non se ne parla Lunedì raga dovrebbe uscire il forno sicuramente il pomeriggio perché la mattina Giants non ne fa uscire mod Sicuramente pomeriggio verso le 4 lunedì più o meno verso le 4 Sempre così fanno chissà quante ne escono lunedì di mod Perché sono indietro di un botto di tempo alla Giants è da un po' che escono poche mod Allora vediamo un po' Ora devo vedere comunque cosa ci si può fare con sto carretto Allora devo dare da mangiare agli animali Allora andiamo avventandomi di caccio seppesso eh Eeeh che vuoi da me è lento o peggio di il padrone sta mucca Ah devo dare un po' di erba Ma però è bella e sapete qual è il problema di sta mod? Pesa un botto tipo 150 mega Cioè sta mod pesa uno sproposito Arrivo arrivo Tempo a tempo arriverò Tu dici tu? Tu dove stai in farm no? Ah si? Ah 4000 4005 Vabbè non è male raga considerate che ovviamente Era troppo irrealistico poi Però è buono Per dar da mangiare alle galline Per dar da mangiare insomma Per piccoli spostamenti Alla fine penso che uno ci può anche caricare qualche pallet No però funziona molto bene Oh effettivamente Oddio piano eh No però sai che è una bella idea sta mod cavolo E' una bella E' un po' complicata da usare Perchè il cavallo in generale E funziona così Però è una bella mod E' una bella mod Cioè è da tenere Cioè l'unica l'unica cavolata che pesa 150 mega E' veramente tanto Scarica lento Vabbè è normale Ah però è Però è buona è buona Eeeh Cumpà fa una cosa vedi qua Pia fieno Ti è carica fieno Dai da mangiare alle pecore Ok Quasi quasi ti direi Dai da mangiare alle vacche con la vacca Allora fieno Però però Cioè alla fine sai cosa Animali che danno da mangiare ad animali Eh oh Si nutrono da se Non proprio così vero Scaricamo dai Scaricamo su Si ok c'è una lentezza Ma vabbè Non è veloce Voglio provare a vedere Se ci si può caricare sopra qualcosa Ah qui dove sto io Cumpà Una parola Si pure qui puoi scaricare Ci stanno anche le altre pecore Comunque Quelle Quelle di Vabbè Io qua qua si è finito Scarica qua Io vado Vado a farmo la vendita Del pane No l'ho già fatta Non mi ricordo No forse l'avevo già fatta La vendita del pane Mi pare che mi ricordo Vabbè facciamo così Allora per intanto Mi passo più un altro po' di fieno Porta una lentezza sta mucca Si però dai è figo Cioè Ah è bellissimo Cioè io Queste sono le mod Che ci vogliono su farming Queste sono le mod che Questo genere di mod io vorrei vedere più spesso E il problema è che Ovviamente non è facile crearle Cioè io Io creo mod Ma ovviamente Non sono bravo Fino a questi livelli Però a prescindere pubblicare una mod così Nel mod hub Credo che è impossibile Perché questa mod per funzionare così Ha bisogno di script E gli script sono buoni solo per pc Non sono compatibili per console Perché ovviamente Far funzionare il cavallo come una macchina Richiede cose che di base La Giants non da Diciamo Ai modder Per il mod hub Non c'è questa Tutta questa mica configurazione Ci vogliono gli script Ci vogliono per estendere le capacità Diciamo di certe cose E quindi Questa cosa deve starebbe bene con pa? No Questa è nella mia serie nuova che ho iniziato Vita da povero Bellissima Questa anche Questa sta pure bene nella mappa Italia Perché ovviamente nella mappa Italia È bello vedere Vedere questo genere di cose Perché ovviamente È roba antica Sì tutte le mappe insomma Che tu dici le voglio portare Con mezzi antichi Ci sta bene Ovviamente ci sta poco in questa mappa Ma non è che ho molte mappe Diciamo Ho solo due mappe L'altra mappa non ha molto senso Che è ancora più mostruosa di questa Andiamo a vedere il pane Quindi raga Vi stavo a dire La mod del panificio La mia mod Lunedì Lunedì pomeriggio Quindi giorno 7 Dovrebbe uscire Questa mod qua Ormai è in procinto di uscire questa mod qua E di fatti ho già venduto tutto Ho già venduto non c'è niente Carichiamo usare Vai Andiamo a scaricare un altro po' di fieno Vai Andiamo a andare a far compere Ok Il lievito è al massimo Devo andare a farle compere E Che ho finito Che ho finito Questo dovresti comprare compa Ho finito il lievito Ho finito molte cose Ah ok si Devo andare a comprare un po' di cose Col cavallo Con furia Ne amo furia Andiamo a far un po' di compere Però è figo Dai Il panificio Col cavallo No mi piace Mi sa che non la tolgo sta mod Pensavo di toglierla Perché pensavo Cavolo Sarà mega buggata E invece no Funziona Almeno Sai come le ultime parole famose Però vediamo Per ora Caspiterina E' fichissima C'è la E' freno a mano Ah no questo è per saltare vero C'è manca solo la carrozza quella Trasportiamo gli sposi Ah c'è due Ehm Stallette di pecora Si Una fa il latte di capra Diciamo Difatti la è so capra Ah ok Allora aspetta un po' che faccio gli acquisti per il forno va Allora devo comprare un po' di lievito diciamo Cinque pacchi almeno Devo venire al negozio No 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 C'è basta Ok ho comprato cinque di lievito cinque di sale Vediamo che altro devo comprare Allora Ehm cioccolato Zucchero no Non mi serve sta roba Qualche cassetta di pane A posto Ma sbaglio No vabbè però sai cosa sto notando compà Che l'omino L'omino c'ha la bandiera italiana nel cappello Ehm Se guardi Se guardi l'omino che è seduto Vedi il cappello C'ha la bandiera italiana Oh ma dove sta Dove sta il negozio porca miseria Mi sono perso Ah più avanti Ah si è vero Bello Allora sono quasi arrivato eh Vai furia Questo povero cavallo Ucci oggi ma stai sfruttando troppo Però è rilassante Te ne vai in giro col cavallo Ti senti pure i suoni del paese Così Col cavallo sì Perché la vacca che fa? E' lenta Troppo lenta Vabbè la vacca è buona Però difatti mi pare che la vacca costa decisamente di meno Ehm però vabbè sai no Comunque la vacca è buona Per piccoli spostamenti Ma anche quello trasporta 4.500 Sì 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 Ah ok Non ricordo se era configurabile Sai che ho dimenticato? No non lo è Ah devo vedere se c'ha i nastri sto Ah sì che c'è lì ha I ganci lì Buono Quindi raga potete anche legare le cose C'ha pure I cosi qua Buono Così potete anche trasportare Aspetta Vuoi vedere che Aspetta Magari si apre Sì che si apre Tutto Tutto Olivi le sponde? Sì Non quelle laterali Quelle laterali non si aprono Cammina Allaccia Scegli avvicina Attiva no No solo quella di dietro si abbassa Che comunque è già sufficiente Meglio di niente Già che sa Ma mi pare di giocare al range simulator Io che sistemi i pallet qua Beh con la mod del forno questa mod ci sta alla grande Con la mod del mio panificio questa mod ci sta alla grande Troppo bella Comunque ho comprato abbastanza sale e lievito per passare una settimana almeno Ok E comunque ragazzi Sono contento Mo tra poco escono le mod Per ora diciamo Devo continuare con la mod quella del cactus Ma ultimamente non ci sto molto lavorando alle mod perché Diciamo Dovendo anche mo gestirmi minecraft Impegni personali Sto un po' Sto un po' andando a rilento con le prossime mod ma Piano piano Cerco di fare un po' tutto Almeno però con ste due mod qua Arrivo in tutta ad avere dieci mod pubblicate nel mod hub E a proposito raga in descrizione c'è il link Con la lista delle mod che sono già uscite nel mod hub Ok Caricato tutto Legato tutto Io l'ho parcheggiata la mucca compà Fatto bene Non è cosa è lenta Il cavallo forse sì Due cavalli sì Vabbè sì sì Ma ti voglio trovare l'altro coso del fi Ah giù là è l'altro coso delle pecore Teh t'ho comprato il cavallo vallo a prendere Tanto dici euro cosa E mo vado a piglià Aspetta mi ero riempito il carrello di fieno per darlo alle pecore con le altre Ah che tranquillità col cavallo che serenità Ti godi anche il paesaggio perché sennò tipo vai straveloce col camion Poi il camion è mega rumoroso E queste sono le mod che mancano su farming Beh almeno su pc bene o male ce l'abbiamo Adesso Se diciamo nel mod hub no Nel mod hub purtroppo è difficilissimo vedere queste mod Molto difficile Oh magari potrebbe uscire nel mod hub questa mod eh tipo Ma A parte che la giants sapete che è mega complicata Con le cose A parte quello Visto che usa gli script uscirebbe solo per pc ovviamente A prescindere anche nel mod hub uscirebbe poi solo per pc Non potrebbe essere altrimenti Certo ma anche contachilometri ma penso che sta andando a 30 Allora siamo quasi arrivati Allora siamo quasi arrivati Entriamo di qua Mh Quanto è scomodo scaricare il fieno con sto carrello qua eh Ma Aha Porta l'auto sulla tettoia Ma c'hai tanta di quella scelta come carrelli Il camion tipo Cominciamo ad aprire la sponda Ok Ok Devo scaricare Questo Ok Ah devo stacca tutto E vai Ok Se non mi cadono dalle mani Ok Questo si mette qua Una parola Perfetto E piano piano Sa da scaricare Ok Comunque dai Bella mod raga Molto bella Molto 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 bella Non è niente Niente male Mh Vado a concludere il gameplay Peccato per la pesantezza Eh per caso Peccato che pesa molti mega Si l'unico L'unico difetto che vado a trovarci alla fine Solo quello Vabbè Beh alla fine però In realtà I carrelli so due E uno dei due Forse che questo che uso io Pesa 80 mega Basta non mettere sto carrello Alla fine Sono tre Sono quattro mod Vanno scompattate Quindi basta Eventualmente non mettere il carrello più pesante Che sarà questo 80 mega E alla fine Uno usa quello L'altro Quello che usava miti Dovrebbe essere Mi pare meno pesante In termini di megabyte Va bene Allora raga Noi Concludiamo che il tempo Ahimè E volato via Spero vi sia piaciuto il gameplay Vi vado a ricordare ancora una volta Quindi che in descrizione trovate un link Che vi permette di comprare questo e tanti altri giochi scontati In descrizione c'è anche il canale di miti In descrizione c'è il link della lista Il link con la lista delle mod che uso in questa serie C'è anche il link con le mod che ho creato io E tanto altro Vi salutiamo ragazzi Ciao alla prossima Ciao ragazzi Ciao Ciao